Cari quaddisti, eccoci, pausa pranzo, rompiamo i maroni a tutti e siamo tutti andati a prendere al team Corsi Mattia Torranco all shot in gara 1 della QX1, grande Mattia, abbiamo fatto la telecronica e abbiamo detto all shot e mi pare uno o due giri, qualche giro in testa, uno e mezzo Che dire? Questa sensazione di rivedere davanti il vuoto in questa QX1 è carina insomma, bisogna impegnarsi un po' Sì, no, ho fatto una buona partenza, era da un po' che non facevo buone partenze, però invece sono partito concentrato e sono riuscito a fare quel pochissimo di buono È pochissimo, comunque è una buona prestazione fino a quando non sono, non sei in corso Sì, però era di più di quello che potevo andare, infatti poi dopo piano piano Dubbiamente, però il passo delle... un buon passo gara hai dimostrato di avercelo E comunque i primi giri sei riuscito a tenere il gruppo dei primi, poi via via c'è stato un allungo, sicuramente un'ottima all shotta A un Mattia Torraco che dovrebbe aver ripreso forza nel tentare una seconda all shot Tu dici Mattia Torraco ci tenta sempre Non risolvo in tutte, anche se faccio... se parto in tempo Vabbè, però intanto... Il primo è cercare di lavorare bene, come stiamo facendo E trovare le soluzioni giuste E feeling con la moto E cercare di lavorare bene, uniti Per far meglio, ecco Perché le potenze... cioè, mi sento che qualcosa in più si può dare sicuramente Questo, diciamo, inizio di campionato La metà abbondante campionato non è andata come volevo io Anzi, sto andando sempre a ripeto E niente, non va come ho detto io Sento che se faccio qualcosa in più sicuramente potrei dare Come è dato l'anno scorso Quindi c'è da capire dove bisogna intervenire per cercare di colmare queste lacune Comunque a vederti di guidare in questa gara 1 Fin quando non sono accorsi i problemi meccanici Ci c'è sembrato di vedere un Mattia Torraco Che si sentiva un po' meglio su questa moto che conosce poco Ma sì, bisogna girare, ecco Quest'anno più che mai ci vuole... bisogna girare, girare tanto Io giro sempre meno E questo non va bene No, no, faccio fatica Faccio fatica, non posso nascondere niente E non posso trovare scuse Si fa fatica e si arranca, ecco Sicuramente questo qui non è il mio livello attuale Questo ne sono convinto Beh, con allenamento per Diana Speriamo di venire Ma in una macchina non ho mancanza di allenamento Mancanza di confidenza con questo mezzo Si, allenamento sulla moto intendevamo Non allenamento tanto fisico Ma proprio conoscenza della moto Più giorni settimanali passati in pista con la moto da gara Adesso durante il periodo di vacanza Vediamo di trovare qualche... Qualche spazio in più via Speriamo qualcosa in più sicuramente Per fare le ultime due gare un po' più convinti Non solo la all shot Ma anche qualche parte di gara più aggressiva Cercare di essere un po' più competitivo anche durante tutta la match Perché comunque so di poterlo fare E questa è la grande Mattia, i nostri complimenti per la all shot È un in bocca al lupo per gara 2 E speriamo risentirci per una nuova ottima prestazione da parte tua Grazie, credo, ciao